Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo. La tendenza per la giornata di sabato, quando ci sarà un cedimento graduale dell'anticiclone al nord Italia e delle precipitazioni che sabato nella seconda parte interesseranno al nord-ovest. E poi domenica anche parte del centro Italia, Sardegna e nord-est. Intanto però guardiamo la nuvolosità perché sarà una giornata con più variabilità di passaggio sulle regioni settentrionali e sulla Toscana trova invece sole, una bella giornata di sole, sulle rimanenti zone del centro-sud. Osserviamo anche le precipitazioni, dicevamo in giornata tornerà qualche pioggia, anche qualche breve temporale in alcuni settori del nord-ovest. Liguria, aria alpina, poi in serata anche la Valpadana centro-occidentale. Per quanto riguarda invece la sintesi dell'Italia, dicevamo questo cedimento dell'anticiclone al nord-ovest in sede alpina. Altrove invece al centro-sud ancora bel tempo con temperature diffusamente tra i 20 e i 24 gradi. Gli approfondimenti, gli ulteriori ragionamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.